benvenuti su replay ora tutta la programmazione dei canali rai te la godi in replay che congela il tuo tempo per 48 ore seleziona dalla guida tv il programma dove vedi questo simbolo premi ok e il gioco è fatto i programmi rimangono disponibili per te per ben 48 ore e puoi mandare avanti indietro mettere in pausa come un dvd sei arrivato tardi per il tg vuoi rivedere la finale di champions league c'è il gran premio all'alba ora con tiscali tv sei tu il padrone del tuo tempo scopri la libertà scegli replay